Musica Si discute ancora in Commissione Cultura al Comune di Napoli sull'Osservatorio Centro Storico. La proposta avanzata dal consigliere comunale Elena Coccia rappresenta uno strumento di supporto per il perseguimento della promozione, recupero e valorizzazione del Centro Storico Sito Unesco. Nei mesi scorsi anche la Commissione Urbanistica aveva discusso dell'argomento, focalizzando l'attenzione sulla riqualificazione e la conservazione del Centro Storico. L'Osservatorio sul Centro Storico, che tra l'altro è un'iniziativa che è stata molto apprezzata dal direttore generale dell'UNESCO, il dottor Bandarin, al quale appunto è stata portata questa proposta. L'altro giorno che trovandosi al World Urban Forum era all'Istituti Filosofici e ha detto che finalmente Napoli si sta muovendo in relazione al Centro Storico. La discussione sembra ormai però arenata sulla nomina della Presidenza, il cui accordo dovrebbe essere trovato in questi giorni dalla maggioranza. L'ennesima riunione è un'ennesima commissione per definire un attimino delle problematiche che sono create per quanto riguarda la Presidenza dell'Osservatorio del Centro Storico di Napoli. Per cui interverranno anche il segretario generale Ferulano perché deve darci alcune indicazioni tecniche, cioè un parere tecnico. Poi questo problema comunque deve essere risolto in Consiglio Comunale.